In un minuto una breve battuta conclusiva sull'Abro e un augurio per i lavori che riniziano. L'Abro è stata fantastica, il segno dominante di tutti i volti delle persone era il sorriso, vorrà pur dire qualcosa in questi tempi difficili. Tutti quelli che sono stati qui hanno vissuto dei giorni, non diremo dispensieratezza perché ci sono tanti pensieri brutti, difficili, complicati, ma hanno trovato qui le ragioni della fiducia, della speranza. C'è un modo per fare la politica sobrio, semplice, partecipato, di amore per la nostra terra che forse anche altri dovrebbero raccogliere, non dico imitare. Dunque il ringraziamento a tutti voi che ci avete seguiti, ringraziamento a voi che ci avete aiutato, servito da dietro di queste telecamere, questi occhi che hanno attentamente accompagnato queste quattro giornate e la certezza che non finisce qui, anzi che comincia qui perché in particolare il lavoro fatto con i ragazzi non è stata tappezzeria come si diceva un tempo, i ragazzi non sono stati a un angolo della sala a far mostra di sé, no, sono stati il perno di questa festa e l'ascito di una nuova classe dirigente che si occuperà dell'avvenire dell'Italia. Grazie.